rispondono, cazzo dunque, io e Valerio siamo alle prese con innanzitutto spieghiamo agli amici a casa che sono le attimo le tre di notte qui io e Valerio praticamente dobbiamo ordinare la cena in camera cioè Valerio che è un po' stizzito perché qua non ci risponde un cazzo di nessuno e noi ci abbiamo fame ok ok, sto chiamando la reception sto chiamando la reception dopo il concertone di stasera ce lo meritiamo servizio in camera ma mi ha messo in attesa ti ha messo in attesa? si ti ha riconosciuto una musica persiana persiana Jones madonna che faccione che mi fa così che faccione non mi rispondono più neanche alla reception non mi cagano non mi cagano non lo cagano devono rispondermi però hai ragione se non mi cagano la reception se io adesso mi fossi tagliato e avessi bisogno di assistenza niente è ripartita la musica persiana non mi rispondono dove fa un monologo non mi cagano la musica persiana ci rivediamo quando gli rispondono non mi cagano la musica persiana non mi cagano ma è possibile? non mi cagano la musica persiana non mi cagano la musica persiana non mi cagano la musica persiana no ok and what which kind of food could we eat now pizza ok pizza pizza ok and so chill pizza with sausages sausage yes and and something to drink but I guess water water with no gas sorry 45 the room no no I don't understand no we 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 won't pay and now we we keep it on the on the expense of that room oh sorry sorry but I don't understand sorry yes I don't know I don't know no we no 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 we 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 ain't got this it will be tomorrow pizza yes no it's not it's not nothing nothing oh no I don't understand something but sorry it's not that simple to eat da mangiare o le occhiaie prendere sto chiede o no qua che schifo questi siamo che faccia diciamo grandissima sembra ma anche io vediamo poi no vado a vedere il video che avevi appena girato zeghi non ho capito un cazzo di quello che mi ha detto quello ma cioè ti ha chiesto ma non si capisce non so non so dirti che cosa ti ha detto che c'era la pizza poi mi ha detto è sempre che c'è money so non 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 so tequila sunrise è finita di rompere i c***o portami due pizze di m***a mettile sul conto della camera non è che ci vuole tanto c'è tutta la faccia lucida ma non si vede qui non puoi riprodurlo non è vero non mi ricordo come si fa veramente non mi fa fare gli extra sempre lì che chiede puoi fare questo puoi fare l'altro domani barba però fatta oggi faccio proprio il faccio ma si ma anche la data è calma anch'io faccio così faccio grosso vabbè allora se io lo faccio a questo punto esco un attimo in corridoio i ragazzi si hanno ordinato come sarà sono cavato andiamo a vedere in corridoio ai ragazzi come sarà sono cavato mi lavo prima le mani però eh sì io non lo so se l'ho ripresa ma se l'ho ripresa è rito cent'anni c***o comunque se l'eventorità non l'avessi ripresa magari stava scivolando in bagno come come un anziano c***o adesso è colpa mia adesso niente lui sostiene che sia io fare casino in bagno ma io sono il primo ma te comunque procedi bene con il genitore aspetta 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 ancora non mi fai incazzate che tipo scherzi raga vi parlo da qua siete riusciti ad ordinare no penso che abbia fatto mi chiede mi ha dato giù non lo so mi stavo lavando io prima ma non fai schifo ma perché ma sono uscito dal bagno non l'ho più trovato ma scusa poi perché io ho provato a chiamare ascolta ma non puoi dire amici e non so dove sia chi sta parlando da dentro no perché c'è un bel troione qui è bello e poi siete fuori con la cinepresa perché sei più bello tutto il troione che c'è dentro ma stiamo aspettando tanto io non c'è la pizza attenzione che forse c'è un arrivato visto la lette di pollo piccanti quelle mi ispirano minchia la lette di pollo piccanti solo che a quest'ora a quest'ora mica ti piglia ti piglia ti brucia il culo due giorni va bene o al limite ci mandi micchi secondo grazie grazie ciao secondo me qua ce la prendiamo in golo caro mancano vabbè io spengo intanto ciao a tutti